Il calcio in apertura Il Cesena che si appella alla forza della disperazione per venire a capo del rebus rappresentato dall'iscrizione alla prossima Serie B. Le ultime novità riguardano l'interessamento di una banca d'affari inglese disposta a rilevare la società per cercare di mantenere la categoria cadetta. Vediamo. Cronaca di una giornata convulsa. Forse la più convulsa di questo incubo a tinte bianconere che sembra preludere al fallimento della Cicesena. Giovedì il club di Corso Sozzi ha ricevuto una nuova visita della Guardia di Finanza, una verifica ispettiva di quasi dieci ore, mirata soprattutto ad acquisire la documentazione relativa agli affari col Chievo, nell'ambito dell'inchiesta penale sul caso delle cosiddette plusvalenze fittizie. L'ennesimo chiodo apposto sulla barra di un Cesena che mai, come nella mattinata di ieri, era stato così vicino ad alzare bandiera bianca e abbandonarsi così al proprio destino. Eppure, proprio nelle ore più disperate nella storia di questo club, ecco arrivare l'ultimo barlume di speranza. L'interessamento di una banca d'affari inglese disposta a rilevare in toto il sodalizio Cesenate, facendosi carico anche dei debiti. La mossa della disperazione che potrebbe anche riscrivere la storia del calcio cittadino, anche se ancora una volta la parola d'ordine è massima prudenza. I tempi sono talmente stretti che le probabilità che tutto vada a buon fine sono ridotte all'osso. Entro lunedì alle ore 19 il Cesena dovrà presentare il ricorso contro la prima bocciatura della Covisoc, corredato dal pagamento degli stipendi arretrati, la presentazione della fideiussione e l'ok dell'Agenzia delle Entrate. Probabilmente troppo per sperare che la mano della provvidenza possa intervenire dall'Inghilterra, in quelle che potrebbero passare alla storia come le ultime ore di vita della Cicesena. Ci spostiamo in Serie C, ritorno a casa per William Gidai. Con un contratto biennale l'esperto difensore ritrova la maglia giallorossa della Ravenna, dopo l'addio datato ben 13 anni fa. Il desiderio per il classe 84 è quello di chiudere con la maglia dei romagnoli la propria carriera professionistica. Sono felicissimo di essere tornato a casa e nella società che mi ha cresciuto fin da quando ero bambino e mi ha permesso veramente di coronare il mio sogno, quello che era di diventare un giocatore professionista. Quindi, che dire, sono contentissimo, come ringrazio il direttore, ringrazio anche il presidente che sicuramente hanno avuto la pazienza di aspettarmi e devo ammettere anche di fare comunque un sacrificio, quindi per l'amore del cielo. Io spero di ricambiare questa fiducia naturalmente sul campo e, che dire, impegnarmi e dare tutto quello che ho anche dal punto di vista, oltre che del gruppo, fuori dal campo, perché comunque per me Ravenna è la città dove sono nato, poter riportare comunque l'entusiasmo del Ravenna Calcio in città sarebbe una cosa veramente meravigliosa. Il campionato si vede volta per volta e si sa, c'è sempre la sorpresa, la sorpresa positiva, quindi non dico niente per scaramanzia essendo stato giù, quindi speriamo di essere la sorpresa. Comunque, al di là di quello, è un campionato secondo me tutto dove le rose veramente si stanno formando, ho capito, totalmente, quindi chissà, vedremo di conseguenza, ho capito, assolutamente. Dopo i primi test atletici lunedì il Rimini ripartirà in direzione Sant'Agata Feltria per il ritiro precampionato. La squadra è al completo ma il DS Tamai rimane comunque in agguato per gli ultimi colpi di mercato. Pronti via è il Rimini Scaldematori per l'inizio della nuova stagione in Serie C. Dopo test atletici e visite mediche, lunedì 16 luglio comincerà ufficialmente il ritiro Sant'Agata Feltria della squadra messa a disposizione di Mr. Righetti dal DS Pietro Tamai. Partiamo per il ritiro con la squadra già al completo, è una squadra molto giovane, composta come ha detto lui di una buona percentuale di ragazzi romagnoli, abbiamo mantenuto lo zoccolo duro che ha vinto la Serie D. Occhio però alle occasioni di calciomercato dell'ultima ora che potrebbero ingolosire la società. Il mercato è chiuso, la rose completa ma qualche ultimo innesto potrebbe arrivare. Il mercato in questo momento si è fermato, però se dovesse arrivare un'occasione, vediamo durante la preparazione, vediamo come evolve qui il tutto, non è che ci siamo completamente arenati. Obiettivo finale quindi cercare di fare il meglio possibile in questa nuova avventura in Serie C. Siamo ottimisti, la squadra è buona, abbiamo dei tecnici eccezionali e faremo sicuramente del nostro meglio. La società come gli anni passati punterà sul progetto, sul progetto Un altro calcio è possibile che prima di essere un progetto sportivo è un progetto etico. Abbiamo un gran gruppo e lo ripetiamo nell'anno scorso, secondo me il nostro Cristiano Ronaldo, ripeto per l'ennesima volta, è il nostro fantastico gruppo, mi auguro che sarà anche per l'anno scorso. Intanto il San Marino continuerà a far parte della Serie D. E' questo l'obiettivo centrato dalla società Bianca Azzurra che ieri pomeriggio ha depositato l'iscrizione al prossimo campionato, ovviando alla mancata concessione da parte della FSGC dell'impianto di casa, il San Marino Stadium, con l'utilizzo in deroga di un impianto sito a ben 65 km di distanza dalla Repubblica del Titano, lo sbrighi di Castiglione di Ravenna. Il San Marino debutterà dunque nell'impianto bizantino già nel mese di agosto per le prime sfide di Coppa, prima dell'inizio ufficiale del campionato. Ma cambiamo decisamente argomento, dedichiamoci anche all'Ippica perché sarà la leva della 2014 a tenere banco all'ipodromo del Savio questa sera. In palio il premio welfare gratis che vedrà ai blocchi di partenza otto interpreti di primissimo piano. Sabato nel segno dei quattro anni all'ipodromo del Savio, con otto esponenti della leva 2014 impegnati nella selettiva distanza del doppio chilometro e dalle prese con la partenza in nastri. Digressione tecnica non sempre gradita ai cavalli in giovane età, ma pur sempre testa probante per misurarne d'utilità e caratura atletica. Sfida equilibrata e dall'eccellente individualità in campo, il clou di fine settimana offre un'eccellente chance di vittoria a Volpelli, oggi in versione Greppi e al via da secondo schieramento con il compagno di nastro Bastrom dei Mag, redice da una confortante performance toscana, sempre in coppia con il bravo Giorgio Cassani, candidato al ruolo di alternativa. Da non troscurare gli allievi di Casillo e Battistini, Fettel, OP e Balzer dei d'altri, che potrebbero aprirsi concrete chance di podio in virtù dell'eccellente collocazione in prima fila dello start. In chiusura torneranno i cadetti ed aspiranti allievi che incroceranno le armi sulla distanza del Miglio. Ieri sera l'attrice con Quartier Quintè è stata vinta da Platone GSO con Maurizio Chiedi Insulchi. La combinazione vincente è stata completata da Febo di Rivarco, Sissi Mamma, Uriel Francis e Selvaggia Nera. Nell'Ordine, il centrale, premio Bronchi Combustibili, riservato ai tre anni e invece andato a Zero Gravity, guidato da Giuseppe Porzio Junior. Il Resto del Carlino propone un'intervista esclusiva all'ex CT della Nazionale, Marcello Lippi. Juve, stai attenta. La lezione mondiale dunque di Lippi. Con Cristiano Ronaldo l'Europa è possibile, ma in Italia tutti vorranno batterti. La favola croazia dimostra che il gruppo conta più dei big. Si parla dei guai invece del Cesena sulla Corriere di Romagna. Lunedì il Cesena è ai titoli di coda. Il destino del club bianconero appare definitivamente segnato, ma lugaresi non si arrende. C'è un'offerta concreta dall'estero. E allora rimaniamo su questo tema, lo facciamo grazie all'opinione di Luciano Poggi. È innegabile che è ancora all'ordine del giorno il fatto che il Cesena sia ridotto nella situazione che ben sappiamo, e da tanto tempo, anche se si era cercato di nasconderlo. Ora, è chiaro, le responsabilità ci sono e sono pesanti da parte della società e da parte di tutti coloro che ne hanno fatto parte, naturalmente, dal Presidente fino al settore tecnico e naturalmente a tutti i componenti del CDA. Ma ciò non toglie che gli stessi che si sono anche quasi rovinati per il Cesena provino e tentino di salvarlo. Ed è arrivata una proposta all'ultimo momento, una proposta importante, una proposta che addirittura parla concretamente del fatto che si vogliano coprire per intero i debiti del Cesena, che ammontano, lo ripetiamo, anche se la gente poi pensa di sapere tutto e dice quello che vuole, a 52 milioni, ma riducibili alquanto. Dunque, perché non tentare, anche se i tempi probabilmente non ci potrebbero essere. Si chiude così anche questa edizione di TR24 Sport. Vi ringrazio allora per essere stati qui con noi. Arrivederci.